Sera. Buonasera. Caspiti di nuovo l'uomo nero. Sono venuto... Sono venuto a declamarvi alcune delle mie poesie più riuscite. Anche oggi? Sì. Come mai scegli proprio questo posto, scusi? Eravate gli unici aperti a questo. Vabbè, allora lei, visto che siamo gli unici aperti, scide lì con queste mattonate. Sì. Grazie, lei è veramente gentilissima, non ce la scordiamo. Per piacere. Vorrei farvi ascoltare... Ma si presenti, scusi, suo nome? Sono Mino Pausa. Mino Pausa. Vorrei farvi ascoltare dalla mia prima raccolta di poesie dal titolo Nel trigesimo del nostro amore. Una poesia che si intitola... disabitato. Urg, che titolo! Scusi, ma perché ci prendono queste crisi di risa a lei ogni volta che fa... è un lamento interiore. Coraggio, legga questa sua poesia, lamento interiore. Adesso le do un lamento cervicale, le faccio vedere io. Coraggio, ci sbrighi. Per piacere. Quando tu mi hai lasciato, anch'io me ne sono andato. Veramente profondo, guardi, questa lirica. Bene, vorrei concludere oggi. Perché ci sentiamo anche domani, ci sentiamo? Sì, vengo. Ma guardi che non è necessario, noi stiamo bene così come stiamo. Per piacere. Scusi, hai ragione, scusi. Vorrei concludere oggi con una delle mie poesie veramente più riuscite. Figuriamoci. La poesia si intitola le tue ultime parole. Caspite, che titolo! C'è sceso, signor. Dicesti solo la morte potrà dividerci. Oh, che... Ci siamo divisi. Oh! 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 Grazie a tutti.